I pazienti covid devono essere curati a domicilio. La richiesta del sindaco di Verbagna Silvia Marchionini al prefetto del VCO. La prima cittadina ritiene che vada ascoltata alla domanda dei medici di famiglia di assistere adeguatamente i malati che restano a casa. Mi sono molto impegnata e continuerò a farlo, scrive Marchionini nella sua lettera al prefetto Sidoti, in questi drammatici momenti per risolvere assieme alle istituzioni sanitarie, agli enti di volontariato e alle forze dell'ordine, alcune problematiche relative alla fornitura di strumenti di protezione e sicurezza. In questi ultimi giorni sta sorgendo da parte dei medici territoriali un grido di allarme dove affermano che è urgente e necessario un trattamento efficace anche per i pazienti covid-19 accertati e sintomatici in isolamento domiciliare, al fine di ridurre la durata del periodo di contagiosità e conseguentemente limitare la trasmissione del virus nella comunità. Il protocollo che ieri il presidente provinciale dell'ordine dei medici ha inviato ai sindaci potrebbe essere attuato in tempi brevi, tenendo conto che per la concreta attuazione necessario che il protocollo sia attivato dalla direzione generale dell'ASRA VCO ed assieme si concordino competenze relativi ai tempi di attuazione, soprattutto per fornire ai medici sia materiale di protezione che i farmaci necessari, Marchionini chiede al prefetto di organizzare nel più breve tempo possibile un incontro con i responsabili dell'ASRA, il presidente dell'ordine dei medici e altri amministratori locali. Intanto dalla regione sono in arrivo per Verbagna 300 mascherine. Questo pomeriggio, grazie all'Associazione degli Amici dell'Oncologia, la ditta di Gravellona Tocce, di Pietro Lagostina e Paola Vercellotti, ha consegnato 50 camici per il personale dell'ospedale Castelli. La lavanderia milanese, che ha visto una riduzione dell'85% del lavoro, attualmente aperta per le esigenze di RSA e case di cura, ha convertito una linea di produzione per la realizzazione di mascherine. Saranno disponibili per i cittadini alla farmacia di Trobaso. Il ricavato, esclusi costi vivi, sarà devoluto in beneficenza dell'elastico utilizzato e quello messo a disposizione dalla Manifattura di Domodossola.